Musica Davide Rampello le cura la rubrica prestriscia la notizia paesi e paesaggi una rubrica sulle eccellenze italiane, le eccellenze paesaggistiche e alimentari dell'Italia quest'oggi è Ostuni, sta girando delle riprese per questa rubrica nella nostra masseria Brancati Sì è veramente straordinaria perché non immaginavo che ci fosse una concentrazione così formidabile da un punto di vista storico e dico storico perché queste piante che mediamente hanno oltre mille anni alcune poi duemila cinque, tremila anni, il grande vecchio che ho visto prima straordinario per cui ancora ai tempi dei messapi raccontano veramente storie questo è un patrimonio unico che dovete assolutamente tutelare dovete tutelare questa come anche altri patrimoni che immagino sono in questa provincia e comunque nella Puglia il fatto che ci sia questa richiesta di chiedere che questi diventi da parte dell'UNESCO un patrimonio dell'umanità mi sembra una cosa assolutamente doverosa se a questo poi aggiungiamo che nella masseria stessa esiste la testimonianza ancora adesso visibilissima di un formidabile frantoio ipogeo che testimonia tutta questa storia perché il frantoio risale all'epoca messapica poi si vedono appunto le ristrutturazioni romane poi medievali, ottocentesche per cui sapendola, anzi invito veramente diciamo gli archeologi a fare una ulteriore verifica e uno studio particolare a questo ipogeo seguendo e collegandola ad altre strutture analoghe perché vi assicuro che questo patrimonio dà un valore aggiunto a tutta questa zona e alla Puglia tutta veramente ineguagliabili Lei è direttore statistico del padiglione zero di Expo Milano 2015 quindi inserire anche questi nostri alberi d'ulivo in questa grossa vetrina Non c'è Italia, non c'è Cina, ma c'è l'umanità perciò questo sarà impossibile ma invece è possibilissimo e appunto questo sarà già in paesi paesaggi ma è invece fondamentale per voi torno a dire veramente fare di tutto perché questo patrimonio venga conosciuto